ciao a tutti ragazzi e benvenuti insieme a questo nuovo video di Shadow Tomb Raider bene, finalmente siamo arrivati al primo accampamento deve essere il terzo e vediamo che succede è di purtroppo è data così sì allora vediamo le abilità finalmente allora sviluppare il ramo esplorazione migliora le abilità esplorative di osservazione di Lara guerriera migliora le sue abilità del combattimento con le armi mentre saccheggiatore migliora la sua furtività e le sue abilità di fabbricazione io per adesso andrei su esploratrice perché mi interessa parecchio sviluppare le abilità scegli un'abilità da una casella blu o rossa o verde le abilità contornate di bianco sono già state acquisite e imparate le caselle scure vengono sviluppate quando le abilità adiacenti vengono acquistate alcune abilità devono essere trovate nel mondo del gioco e non possono essere acquistate ok abilità cammino premiè per vedere le abilità di un cammino guadagnate tramite le tombe di sfida ah interessante premiè andiamo un po' non ho preso un cazzo perfetto siamo a posto allora stavo dicendo esploratrice che doveva essere questa ehm sì esploratrice riduce il rumore di salto ma questo è un'interessità l'ho presa perché è così cosa fa questo? incrementa la montagna di risorse artificiali utili alla febbrecazione ottenibili da ogni fonte io ho quattro punti adesso faccio un giro per vedere un po' poi vi dico cosa prendo va dopo ok ragazzi deciso io direi di prendere questo un punto di abilità che evidenzia manufatti, monoliti, fortieri del tesoro, mappe di archivio e zaini da esplorazione quando usi istinto e sopravvivenza ed è fantastico poi andrei a prendere questa evidenzia gli oggetti di sfida usando l'istinto di sopravvivenza vai e poi prenderei questo ah si è sblocato anche questo che non posso prendere ma questo usa l'istinto di sopravvivenza per individuare le posizioni esatte del cuore di un animale di grossa taglia i colpi al cuore e figurano danni ingentivi e non è male lo sapete perfetto avverti la posizione del cuore degli animali di grossa taglia quando usi l'istinto di sopravvivenza durante la mira colpisci l'animalo al cuore per infliggere i danni pesanti prendi il cu per attivare l'istinto di sopravvivenza e tieni premuto il primo pulsante del masco per individuare il cuore degli animali tutto claro bene spero di aver speso bene i miei punti adesso vediamo cosa ci rimane questo non è disponibile non è disponibile è disponibile un casso quindi possiamo anche uscire scusate e salva quando ci sediamo non me lo dici vabbè non importa quindi noi teletrasporti che ancora non abbiamo quindi per adesso l'unica cosa che possiamo fare è andare avanti ok vediamo cosa c'è qui ah ci vuole il coltello il coltello proprio ci vuole non ce l'ho il coltello in questo momento ci identica andiamo nel punto dove dice lui magari troviamo qualcosa oh ciao un pezzo dell'aereo è caduto qui la mia attrezzatura è in quel carico devo tirarlo giù ma tiriamo giù tutto va che è meglio come faccio a tirare giù che non ho il coltello posso trovare uno scarto appuntito tra quei rottami ecco interessante vediamo cosa ci dice mai ma cosa ci dirà mai ma quanta roba c'è ma porca miseria ma è pieno di roba allora qui ci sono gli animali questo è l'accampamento che io sono qua e qui dove devo andare beh mi sembra tutto claro dai soldi ne ho 3.000 non so se sono molti o sono pochi ma adesso vedremo allora visto che ha detto di andare là io mi farei una bella coscetta corri corri e che cazzo e poi prendere un po' di roba qua ci vuole l'arco quindi non ci vado neanche ciò che devo andare là la rilassata però eccoci qua andiamo qui queste servono poi andiamo qua andiamo qua ci muove la retta ci fa in piacere tutti quanti ok perfettico altro qua è interessante ma dopo e quindi andiamo là adesso prendiamo tutto quanto io prendo tutto perché serve 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 qui serve tanta roba questo tipo potamo che cazzo era lo prendiamo poi vediamo anche qua guardate quanta roba c'è poi dite non esplorate ma insomma sì e c'è tanta roba sicuro che ci vuole il coltello ma qui non di sicuro ok esperienza e poi c'era qualcos'altro qui ah perché ci vuole il coltello non me l'hai detto ok e quindi devo andare lì quindi qua no eh proprio quel cazzo mi ha risposto vediamo un po' come faccio ad arrivare lì beh io tanto seguo appunto di chi mi dice lui poi dopo capirò beh da lì detto così al naso però vediamo un po' come si fa a salire non è che tu magari qui ce la fai a salire ecco infatti quello che mi veniva da pensare secondo me è esatto così mi veniva proprio da poccato c'era qualcosa qui scusatemi prendi qualcosina che c'era ecco posto veretta grazie molto gentila mi serve qualcosa per aprirla lassata vediamo un po' io posso non posso però posso aggrapparmi come vuoi felice vero mi interessa per aggrapparmi non posso allora io proverei andare lì dove dice lei magari possiamo fare qualcosa andiamo ah qualcosa di sì ma Lara sei in terremoto poca miseria ti sfragami sempre perfetto è andata proprio bene sai è andata proprio bene bene non puoi più prendere il pezzo eh vabbè vediamo cosa si dice dice che dobbiamo andare di sotto vabbè tutto perfetto direi vai giù giù Lara giù ok quindi questo perfetto brava adesso prendo tutto eh per stare attenti perché scusate alcune cose sono luminose di bianco e bisogna stare molto attenti perché non si vedono con l'istinto suicida qui come si chiama quello di malo un attico va che prendo un po' d'aria che su questa l'aretta ci sfragma ecco qua vediamo cosa dicono ok posto bella l'aretta forza vabbè che ce la fai nonno che c'è quel corso scassamarroni ah ma allora insomma una bella bracciata una coccolina e poi tutto a posto mi dice cosa devo fare ok eh mi dispiace capita vabbè c'è il pranzo pronto e siamo a posto allora scusate vediamo se c'è ancora qualcosa ma c'è qualcosa in effetti perfettico l'ultima l'ultima guardata perché qui di roba ce ne può essere tanto lo sapete e io vorrei esplorare però prima è meglio andare su perché insomma ve giugate avevo visto qualcosa ma forse mi sono sbagliato effettivamente qui non è che c'è vedete lì che c'era qualcosa ma è di là ok vabbè è apposto eh ok adesso cosa vuoi adesso in teoria ve lo usa come coltello sto coso quindi io le cose le posso trovare allora questo coso qui non lo posso ah solo con l'arco scusate volevo vedere se quel pezzo di prima me lo vedete che vedevo il cuore se quel pezzo di prima vediamo un po' un attimo qua scusate che mi interessa prendere tutto guardavo se c'era la cosa è una sfida non lo sapevo mica io oh salve neanche questo sapevo oh ma che bella cosa all'inizio del diciannovesimo secolo si usava per misurare l'angolo di elevazione di un oggetto astronomico sopra l'orizzonte ai fini della navigazione celeste c'è un'iscrizione qui a mio figlio jack affinché tu non perda mai di vista i tuoi orizzonti interessante e questa è la cosa positiva esplorare come vedete porta sempre bene e in questo gioco c'è tanto di quella roba nascosta che porca misura mi viene mi viene mal di testa allora proviamo a far così ma no così Lara ti sei spezzata le cosse non si fa così qui dovevi andare bravo poi dovevi andare di qua poi dovevi andare poi dovevi andare di qua poi devi prendere questo e vediamo se c'è qualcos'altro che devo fare io devo andare lì lo so però volevo vedere se effettivamente non c'è più cazzo da fare no eh va bene andiamo pure e andiamo a rompere la corda così possiamo finalmente fare il resto qui c'è un rannoccio ok rompi ricordiamoci che c'è ancora una cazza che ho preso bene ma non taglia mi serve qualcosa per affilarlo ah è una cosa molto positiva questa ci siamo arrivati fino a qua per non fare un cazzo allora dici dove devo andare che devo andare al campo base da questo punto viene così salvo no non è disponibile quindi non lo so allora mi dirai dove andare o cosa fare vediamo la mappa va a parte che qui c'è qualcosa che a me mi piacerebbe tanto eh leggenda esci c'entra no era un modo per evidenziarlo questo non mi ricordo più quindi comunque l'obiettivo è qua quindi mi tocca fare un po' di giri va bene l'importante è sapere dove andare intanto prendiamo questo che lo fai fare stavolta eh lo so lo so abbi pazienza la rete che facciamo tutto ok giriamo di qua per andare all'obiettivo intanto prendiamo tutto quello che c'è nel cammino perché ragazzi so che sembra noioso ma alla fine quando dopo andremo dal mercante che riusciamo a prendere tutti in una volta risparmiamo una vagonata di tempo perché il mercante si tende a spostarsi e dopo è un casino a trovarlo stavo andando in una direzione sbagliata forse no stavo andando in quella giusta ok qui c'è un altro proprio ciò che cercavo esatto e ne basta giusto un po' di più eh perché dopo ci serve e questo mi devi dire come come è e grazie perfetto madonna stiamo facendo un sciacquo di cose e qui si salisce però volevo vedere se mancava qualcosa che riesco a prendere e magari funzionasse la Q Q proviamo prima di là dai cerchiamo di fare le cose fatte bene ah non si può andare ho fatto una cacata come i soldi sono bravo dai ok devo solo trovare quell'altro sto pensando adesso guardo la mappa perché tanto è inutile stare a perdere tempo qui dovrebbe dirmelo in teoria la mappa dov'è questo già cos'è non ricordo comunque è qui sono sicuro che sia qui adesso lo cerco bene facciamo un bel giretto qui non c'è qui serve l'arco che finchè non lo prendiamo siamo secco eccolo qui vedete spero che era qui vicino perfetto ho tutto ciò che mi serve meglio tornare al campo eh infatti immaginavo ho detto tanto se era una cosa così così mi serve una piuma grazie molto gentila eccoci qua vedete che non ci ho messo neanche tanto eh facciamo anche questo a posto questa è tutta roba che serve ragazzi non è che è una perdita di tempo serve serve tutto perfetto serve tutto dove cazzo era qua e poi ce n'è un altro qua vedete quanta roba c'era qui c'è qualcosa da salire forse ok questo non ricordo vuol dire che c'è ecco esatto c'è qualcosa da salire e qui qualcosa ah qui c'è da fare tutto il percorso mi fa piacere qui c'è il ok per me questa è una sfida non so quella brutta o brutta quella vaga impressione esatto deve essere una tromba o qualcosa del genere allora per proseguire è necessaria la piccozza ma non ce l'ho comunque me lo dovresti segnare adesso cosa c'è no la tromba oh me l'ha segnata me ne desce ancora vedete che l'esplorazione può essere molto utile la tromba l'abbiamo trovata ok andiamo pure là adesso abbiamo capito dove andare da qua ho fatto una cacata beh sono contento dai riesco a fare sempre bene le cagate io ok il capovase è di qua eccolo qui il nostro capito base perfetto e adesso c'è sbloccato la fabbricazione arma buono fabbricazione arma bel coltello sei sicuro di fabbricare il coltello evidentemente sono sicuro c'è solo quello oh benissimo sono contento vediamo un po' noi ci ha regalato noi perché ha comprato la Lara Croft full edition come cazzo si chiamava della roba interessante allora fabbricazione di extra aumenta la quantità di munizioni che poi esposizione bonus ottieni bonus precisione furtive che non è male ottieni maggiori quantità di pelle grasso dagli animali e ti riesco cacciando animali questo è l'unico bonus che ti ha come se si vede nelle vegetali aggiuntive la soluzione si rigena più velocemente durante la pausa in combattimento eh non è malo non è malo per niente nessuno 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 ah beh questi sono i vari costumi che però non danno niente però sono belli da vedere ok nessun vantaggio si si alcuni sono meravigliosi in possesso è questo ok no sono tutti in possesso voglio capire quale ho addosso più che altro allora faccio un giro vi faccio sapere ok ragazzi prenderò questo perché mi da il tempo verrà rallentato per un periodo di tempo più limitato che mi interessa parecchio sei carina che mai la retta e vai bene così poi il torso questi sono i completi non mi interessa vediamo qua cos'è questa attrezzatura e ho già la corda e questa è l'arma voglio dire che siamo a posto dai possiamo uscire adesso il viaggio rapido non per il viaggio rapido non è disponibile va bene perfetto meglio di niente sicuramente ci sarà utile adesso andiamo a rompere questo cavo così siamo a postolo cara la retta mi rompi tutto grazie rompi spagga che te rompe sei brava c'è ancora qualcosa che tiene sulle scorte sì ed è lì quindi là come ci arrivo dovrò saltare vero faccio un bel salto in lungo io penso e credo che debba saltare qui così a naso ecco che brava la retta oh che sei brava adesso puoi prendere anche questo ottico 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 cosa mi hai preso il materiale la lista sta crescendo c'è tanta di roba grazie la frammentazione no grazie è meglio che non ci hai che fare ok ora posso riprendermi tutto eh sì detta così un po' brutta però riprenditi tutto vai un bel saltino spezzati le cosse siamo tutti contenti ok riprenditi tutto cioè arco e cose varie giusto ok vai tacco perché non ho messo tutta la mia roba insieme eh me lo chiedo anche io ragazzi mi ricevete rispondete miguel dove sei cavolo adesso io non voglio fare ma una scatola così grande per solo un arco e una radio vuoki toki la piccota ci stava qui porca miseria è che cavolo insomma vabbè sarà un arco pregiato per carità ma insomma sì ok devo andare di là quindi io adesso se facessi ah questo è il zoom facessi così nel culo non so se è proprio il pezzo più adatto ci è fatto solo malo eh ma insomma lo sapevo che non era proprio la cosa più adatta ma faremo poi mi diventerò più bravo più vado e questo che cazzo è non capisco eh era qualcosa sì col cazzo che ci vado giù scusi sa ma non è proprio il caso va bene adesso andiamo un po' in giro a vedere come fare eh per arrivare al punto chiave ah ma qui c'è un altro almeno così vediamo eh scusate ok me lo fai prendere no è soltanto ah sì ma scusa adesso la questione di principio porca miserica eh scusate ok è la questione di principio niente non ne vedo altri due di quattro sarebbe bello prendere tutti ma è una sfida questa in pratica eh dobbiamo guardare un po' in aria per farla tutta però adesso non posso se sia caso no non le vedo altri al momento purtroppo peccato mi sarebbe piaciuto va bene andiamo pure avanti e c'è qualcosa che mi piacerebbe andare un attimo perché sono sicuro che può essere interessante ma è spiara porca miserica oh ok e adesso c'è un tab da premere invece adesso poi vedremo anche queste va salta grazie siamo un attimo di là a vedere cosa c'è se mi mi trova qualcosa di interessante io chi sono per di di no insomma si ecco qui ci sono dei fiori li ho già visti prendi ciappa tutto ciappa che è meglio ah era dove dobbiamo andare beh non mi piace eh non è niente di buono ma scusa c'hai i piedi qua tutti sanguinati ma secondo te è vivo ma c'è una buona fantasia per dire questo per pensare questo allora io sono venuto da qua quindi abbiamo due strade che presumo portino allo stesso punto però adesso facciamo passeggiata mamma mia come lo vedo brutto miguel lo vedo proprio brutto brutto vabbè prendiamo questo perfetto bravo guardate che è un bel casino qui miguel passo di là che è meglio perché voglio vedere cosa c'è qui non c'è niente qua c'è qualcosa perfetto lo fai prendere grazie certo che la tastiera non è proprio il massimo giocare a Tomb Raider però vado avanti oh ma lì c'è qualcosa cos'è la descrizione di un mostro ogni parte del mondo ha una sua creatura mitologica bipede che si nasconde nelle foreste da queste parti c'è il sesimite il guardiano della foresta stando alle descrizioni ha un aspetto imponente e scimmiesco si dice che uccida gli uomini a vista e rapisca le donne per portarle nella sua caverna allo scopo di accoppiarsi con esse ma però interessante bene ragazzi io direi che ci possiamo anche fermare qui per questo video è tutto vi invito come al solito lasciate un like un commento se vi piace la serie e di farmi sapere cosa ne pensate e per adesso vi do soltanto la sciva ciao ciao